Ciao a tutti e benvenuti sul canale di My Beauty Routini, io sono Alessandra e oggi parliamo delle mini taglie siamo in periodo pre-vacanza quindi dobbiamo attrezzare la nostra skin care dobbiamo trovare prodotti che ci stanno nel nostro beauty quindi parleremo di prodotti coreani in taglie piccine studiati appunto per chi viaggia ma anche per chi non ha mai provato la skin care coreana e magari vuole avere un primo assaggio senza spendere una fortuna senza comprarsi le maxi taglie vedremo anche che con i prodotti che troverete sul sito si può creare proprio una piccola skin care quindi praticamente vengono coperti un pochino tutti gli step inoltre proprio questo video è fatto anche perché stiamo inaugurando una nuova categoria quindi troverete proprio una sezione specifica che si chiama mini taglie dove sono elencati tutti i prodotti disponibili in piccoli formati ovvero circa dai 20 ai 60 ml quindi sono travel friendly potete portarli anche nel bagaglio a mano adesso vediamo un po' quelli che sono proposti quelli che anch'io mi porterò poi in vacanza nella mia beauty routine allora cominciamo dagli struccanti adesso l'olio di Wamisa che ad esempio Wamisa ne ha fatti tantissimi di mini size praticamente quasi una skin care completa l'olio struccante non ce l'ho a disposizione però lo trovate sempre anche nei link che vi lascio in descrizione e ad esempio un prodotto che si può portare con sé è la beauty water di Son & Park perché è un acqua alla fine un acqua detergente la potete usare quindi anche come prodotto due in uno sia come struccante che come acqua detergente come primo step del mattino vedete piccina bellina una 60 ml poi ci sono i tonici sia i tonici di Wamisa che ad esempio questo molto carino di Klairs piccino così che dovrebbe essere se non sbaglio un 30 ml quindi comunque non sono formati piccolissimi poi abbiamo ah mi stavo dimenticando per la detergenza se magari in vacanza poi non ci si trucca quindi non si è bisogno nemmeno dello struccante si possono portare via questi qui piccini di Wamisu se si preferisce la schiuma oppure questi di Wamisa che questa è la crema è la crema detergente molto molto delicata e poi ad esempio ci sono ci sono anche le creme le varie creme idratanti le lotion per esempio così e di Mison c'è anche la All in One alla bava di lumaca quindi magari per la sera potete c'è il tubicino è un tubo che è fatto simile a questo che adesso vi andrò a far vedere che è il contorno occhi sempre di Mison così vedete bellino questo ad esempio il contorno occhi un 10 ml quindi un quantitativo giusto e da portare in viaggio è leggerissimo piccolissimo e inoltre poi ci sono anche le maschere monodose queste sono veramente un amore vanno dopo tenute in frigo ma durano anche in realtà non è proprio un vero monodose vi faccio vedere quella era questa è quella al carciofo praticamente che è idratante quindi è una maschera una sleeping mask invece questa è una maschera wash off che si può fare per pulire la pelle per tenerla fresca ha un'azione anche sebo regolatrice ed è un alla menta peppermint dicevo queste piccole monodose di olicolica in realtà durano almeno due o tre volte e poi si ripongono in frigo si richiudono tranquillamente quindi comunque sono anche comode se non volete rinunciare alle maschere anche in vacanza poi mi rispondono dire che c'è anche per pelli impure o miss il sebo treatment ben piccino di voamisa questo è uno dei nostri best seller perché praticamente è un siero che ha un'azione sebo regolatrice e poi appunto in estate si può anche usare tranquillamente sia come siero ma anche come crema finale se la vostra pelle appunto si sente a posto che non non tira per cui alla fine è un prodotto due in uno niente vi ho fatto vedere un po' di di prodotti che anch'io mi appunto come ho già detto mi porterò nel beauty quest'estate se siete curiosi di andarla a vedere andate andate a cercare proprio nella questa nuova categoria vi lascio comunque il link in descrizione alla nuova categoria di mini size sul sito by beauty routine spero di aver fatto un video simpatico carino se volete essere avvisati dei prossimi video cliccate sulla campanella che così vi avviserà prontamente comunque dovete sapere se proprio non resistete che ogni lunedì escono i nostri video nuovi e quindi ci vediamo al prossimo video un bacione ciao ciao